I carabinieri arrestano gli autori di una rapina in villa a Bolognetta e danni di una coppia di anziani avvenuta nel 2012 ad inchiodare due le tracce del DNA. A Partinico un commerciante agli arresti domiciliari per furto di energia elettrica. Regione il governatore Rosario Crocetta convoca per lunedì i sindacati al centro del confronto il DDL sui precari. Partinico, Davide Farone e Fabrizio Ferrandelli lanciano l'associazione Big Bang a sostegno del progetto politico di Matteo Renzi. Ieri sera l'inaugurazione. Partinico, il decreto del fare, stanzia 470 milioni per la scuola ed università. Se ne è parlato ieri in un convegno organizzato dall'UCIM. Buonasera, bentrovati con l'informazione di TV7. Apriamo il telegiornale, come dicevamo, nei titoli di apertura con la pagina di cronaca perché i carabinieri a Bolognetto hanno arrestato gli autori di una rapina in villa commessa nel settembre del 2012. Sentiamo i particolari nel servizio. Arrestati a Palermo e Bolognetta, gli autori di una rapina avvenuta nel settembre 2012 ai danni di una coppia di anziani residenti in una villa alla periferia di Bolognetta. Al termine di una lunga attività investigativa svolta dai carabinieri, gli autori sono stati individuati grazie all'esame di alcune tracce del DNA. In manette sono finiti Davide Motisi, 31 anni e Ivan Mattiolo, 26, già in carcere al Paglierelli per altro reato. I militari dell'arma, grazie a un attento sopalluogo effettuato nell'immediatezza dei fatti sulla scena del crimine, hanno rinvenuto una calzamaglia e un paio di collanda donna usati dai maldiventi per travisare i volti e capi di abbigliamento sui quali sono stati estratti tracce biologiche ai fini investigativi. Le successive analisi effettuate dagli esperti del rischio di Messina hanno permesso di identificare i due soggetti quali i presunti autori della rapina. L'ufficio del GIP del Tribunale di Termini Merese, dopo aver acquisito delle istituzioni investigative, ha emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei due soggetti. Motisi, dopo l'arresto, è stato condotto presso il carcere Cavallacci di Termini Merese. Continuiamo con la pagina di cronaca. Il gestore incensurato di un bar PC di 51 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Partinico per furto di energia elettrica. I militari dell'arma sono intervenuti presso l'esercizio commerciale gestito dall'uomo dove hanno accertato che il contatore elettronico era stato manomesso mediante la posizione di un magneto in modo tale da registrare un consumo di energia elettrica inferiore al 95,6% rispetto a quello reale a danno della società erogatrice. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E adesso cambiamo decisamente argomento. Ci occupiamo della regione. Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ha convocato per lunedì i sindacati. Al centro del confronto ci sarà il DDL sui precari degli enti locali. Sentiamo. Prima della definitiva approvazione del DDL sui precari, il presidente della regione, Rosario Crocetta, ha organizzato con gli assessori interessati un incontro con i sindacati. In programma lunedì prossimo alle 11, mentre alle 12 ci sarà un incontro con i capigruppo della maggioranza. Successivamente il testo sarà discusso con tutti i capigruppo all'Ars e con le commissioni parlamentari. Il DDL è un testo di riordino di tutto il sistema del precariato. Prevede la proroga di tutti i lavoratori del bacino dei precari per tre anni e il contestuale avvio delle procedure di stabilizzazione. È previsto un albo unico regionale di tutti i precari, LSU, ASU e altri, articolato in tre sezioni. La prima in cui sono inseriti i lavoratori di categoria A e B, la seconda C e D, la terza i lavoratori ASU. Poi ci sarà un ulteriore elenco di lavoratori precari del settore sanità che per il decreto Balduzzi verranno a gravare sul fondo sanitario, per i quali è prevista una proroga dei contratti per tre anni e l'avvio della procedura di stabilizzazione. Sono previste forme di incentivazioni per l'esodo di tali lavoratori, previste borse di autoimpiego e utilizzazioni nell'ambito di imprese e dei lavoratori che verrebbero assunti a tempo indeterminato con un incentivo della Regione. Previsto un ulteriore bacino dei precari, quelli della Regione, per i quali è contemplata la proroga per tre anni e l'avvio delle procedure di stabilizzazione. Cambiamo ancora argomento, parliamo adesso di Partinico. Ieri sera Davide Faraone e Fabrizio Ferrandelli hanno lanciato a Partinico l'associazione Big Bang a sostegno del progetto politico di Matteo Renzi. Ieri sera, come dicevamo, c'è stata l'inaugurazione. Vediamo. Non è un partito né una corrente interna al PD. Big Bang, dicono i promotori, è solo un'associazione politico-culturale a sostegno di Matteo Renzi. Apre anche a Partinico, l'associazione esplosa in su tutto il territorio nazionale e che deriva dal Big Bang di Firenze del 2011 quando, attorno alla proposta di Matteo Renzi, si ritrovarono oltre 5.000 persone provenienti da tutta Italia. Il deputato nazionale Davide Faraone, presidente di Big Bang Sicilia e coordinatore regionale dell'area Renzi, ha tenuto a battesimo ieri il circolo partinicese e spiega perché l'associazione cresce dappertutto. Se cresce l'associazione e se Matteo Renzi ha successo è perché c'è una voglia di cambiamento grande nel paese. Riesce a intercettare questa domanda di cambiamento che potrebbe avere sbocchi nell'antipolitica con Grillo ma sarebbe una storia assolutamente inutile. Se invece riesce ad avere uno sbocco positivo con Matteo Renzi, leader del PD e a guida del paese sarebbe una sfida interessante. Cambiare il Partito Democratico è uno degli obiettivi di Big Bang e proprio a Partinico dove si è registrato il maggiore espluato di nuovi tesserati al PD con polemiche, veleni e ricorsi. L'onorevole Faraone viene a spiegare che... Questo va azzerato. A me piace valorizzare i 600 congressi che ci sono stati in tutta Italia e non quei due o tre congressi in cui ci sono state delle tessere drogate o con qualcuno che ha barato. Credo che comunque molto vada cambiato in questo partito perché molto spesso nel mezzogiorno è stato affidato ai notabili più che ai cittadini, agli iscritti e le primarie dell'8 dicembre servono per cambiare proprio questo. Big Bang sostiene la candidatura di Matteo Renzi per rinnovare la politica e le istituzioni attraverso un ricambio generazionale mandando in pensione i vecchi politici anche del centro-sinistra. Tutti questi anni, tutti questi tromboni che ci spiegavano come doveva funzionare la politica, come doveva funzionare il centro-sinistra ci hanno portato sempre a perdere. Oggi ci proviamo noi, ci provo un'altra generazione, speriamo di riuscire a mettere in campo un'idea nuova di politica e di centro-sinistra. L'associazione Big Bang a Partinico nasce anche per promuovere tutte quelle iniziative politiche, sociali e culturali che possono portare una ventata di novità nel nostro territorio. Matteo Renzi sicuramente rappresenta oggi nel panorama politico nazionale proprio questa novità ed è questo il motivo per il quale noi abbiamo deciso di sostenerlo e farci portatori insieme a lui della stessa aria nuova, delle stesse nuove proposte che sicuramente possono portare anche a Partinico qualcosa di buono e di concreto. Di aria nuova nei territori parla il deputato regionale Fabrizio Ferrandelli. Si stanno animando i territori, ci sono delle associazioni che nascono in maniera spontanea con giovani e meno giovani che si rendono protagonisti del cambiamento del proprio territorio. Lo stanno facendo trovando in Matteo Renzi il coraggio di un giovane che si mette in discussione, che sta dimostrando al paese intero di avere delle qualità e che essere giovani non si nega per forza essere inesperto ma può significare avere delle esperienze e portare un contributo di novità al paese. Noi riteniamo invece che sia necessaria una nuova stagione in cui ci sia il coraggio e la freschezza di poter osare e si osa a partire dalle proposte, a partire dai programmi da portare avanti. Parliamo ancora di Partinico e del convegno che si è organizzato ieri, il convegno organizzato dall'UCIM. Il decreto del fare ha stanziato 470 milioni per la scuola e per l'università. Se ne è parlato ieri alla presenza anche di parlamentari nazionali e regionali. Sentiamo. L'UCIM di Partinico, coordinato dalla professoressa Maria Pia di Trapani, ha organizzato un incontro a Partinico sul decreto del fare scuola, le misure in materia di istruzione, università e ricerca. Ha coordinato i lavori la dirigente del liceo scientifico Santi Savarino di Partinico Chiara Gibilaro. Hanno partecipato al convegno la dottoressa Margherita Giallombardo, presidente provinciale UCIM, Chiara Di Prima, presidente regionale UCIM, il sindaco di Partinico, Salvo Lobbiundo. Sono intervenuti l'onorevole Teresa Piccione, deputato nazionale, Mariella Maggio, vicepresidente commissione pubblica istruzione, assemblea regionale siciliana. L'incontro ha voluto coinvolgere i partecipanti su una riflessione sul decreto del fare nella scuola. Il decreto del fare trasformato in legge del fare prevede 470 milioni di euro in movimento per la scuola, 69 mila assunzioni in un triennio sul territorio nazionale, almeno 27 mila unità come insegnanti di sostegno, valorizzare il patrimonio culturale attraverso i sistemi digitali, mutui per la sicurezza nelle scuole, fondi per il merito dello studente, possibilità per gli studenti stranieri di proseguire gli studi, attenzione per la ricerca, l'università e la formazione, apprendistati in accordo con la scuola. Obiettivo del decreto del fare è quello di promuovere una sinergia tra scuola e mondo del lavoro, perché la cultura deve essere l'elemento trainante di sviluppo e produzione competitiva di un paese che vuole cambiare. Un invito è stato rivolto dall'On. Picciona ai sindaci per offrire un paese dove si investa per creare ambienti propositivi. L'USCIM sul territorio nazionale si occupa di formazione e di ricerca. Questa giornata organizzata qui a Partinico oggi è risultata molto interessante. Quali sono stati i temi affrontati? Abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sull'ultimo decreto, l'istruzione riparte, perché è giusto che si faccia chiarezza su quanto il Governo a livello nazionale e poi anche a livello regionale ha intenzione di fare per il mondo della scuola. Questo nuovo decreto rappresenta, almeno in linea di massima, un'inversione di tendenza rispetto al passato, perché sembrerebbe voler investire nella scuola. È tutto in fieri, perché già sono usciti dei bandi e quindi bisogna vedere poi se le proposte di legge con i decreti attuativi cominciano a concretizzarsi. Un tema molto centrale all'interno del travaglio che ha attraversato la scuola negli ultimi anni. Perché si parla di decreto del fare? Decreto del fare perché sono tanti i problemi della scuola. L'USCIM, la nostra associazione, ha sempre fatto la propria parte presso le sedi istituzionali elaborando delle proposte dando il proprio contributo e infatti presso la settima commissione della Camera dei Deputati ha partecipato alle audizioni proprio dando dei suggerimenti per l'elaborazione di questo testo. In parte alcuni sono stati recepiti, altri sono ancora delle enunciazioni che si potranno in futuro concretizzare. Rimette la scuola, l'università e la cultura al centro dell'agenda politica. Questo vuol dire un investimento, un intervento nel senso della democrazia partecipativa perché significa aprire percorsi di partecipazione a tutti. Ci sono le borse di studio per gli studenti meno abbienti ma che hanno una buona formazione all'università, che entrano con 95 centesimi e vogliono studiare in un'altra università diversa dalla regione. Ci sono dei fondi destinati ai percorsi di apprendistato già dalla scuola. Con questo decreto le scuole nei territori più disagiati potranno restare aperte il pomeriggio, progettare recuperi, utilizzare le palestre e quindi di combattere con atti concreti anche la dispersione scolastica. Poi il cambio di passo, mi scusi, è proprio sul fatto di vedere l'istruzione come grande motore dello sviluppo del Paese. Decreto del fare dovrebbe portare 470 milioni di euro all'interno delle scuole italiane. Come concretamente può essere utile per le scuole? Molto utile per quanto riguarda alcuni elementi che sono dentro la legge 128 e che riguardano soprattutto prima di ogni altro elemento quelli dell'assunzione di 60 mila docenti nel triennio 14-16. Dalla riforma Gelmine a oggi noi abbiamo avuto dei tagli che sono stati tagli lineari e che hanno falcidiato la scuola. Quindi questa legge dà nuova linfa alla scuola e rimette al centro soprattutto lo studente perché viene ridisegnato il welfare dello studente con interventi che lo aiutano per raggiungere più alti livelli di successo formativo. L'onorevole Piccione ha parlato del decreto del fare delle possibilità per quanto riguarda la formazione, l'istruzione e tutto. Ha lanciato un appello ai sindaci per poter fare qualcosa per quanto riguarda i problemi ambientali. Però io gli ho fatto un'analisi, uno studio dell'IFEL dove la spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni nei comuni incide dal 2,5%. Se noi andiamo a analizzare sostanzialmente i trasferimenti che dallo Stato sono arrivati ai comuni sono diminuiti di 9 milioni di euro. Capite benissimo che non sia nelle condizioni di poter andare avanti e non si può fare nessuna politica di programmazione perché con i vincoli del patto di stabilità dal 2007 al 2014, come ho detto, 9 milioni di euro i comuni non li hanno potuti spendere per il vincolo restrittivo del patto di stabilità. Significa immettere 9 milioni di euro di denaro nell'economia ma anche negli interventi di questo genere dell'economia locale, cosa che lo Stato purtroppo ha impedito. E come spesa pubblica, devo dire che i comuni hanno tagliato in percentuale preponderante rispetto a quella dello Stato. Dove lo Stato è aumentato, quella delle comuni è diminuito. Per quanto riguarda la dispersione scolastica, questo è un tema che bisogna affrontare immediatamente a livello regionale con una verifica attenta su quanti sono davvero gli alunni che a un certo punto fanno disperdere le loro tracce perché è necessario tracciare dalle scuole medie, dalle scuole superiori e intervenire in maniera particolare in alcuni, per esempio, quartieri specifici dove purtroppo considerate le condizioni sociali, molto spesso l'abbandono viene determinato anche dalla impossibilità delle famiglie di sostenere i figli e di un avvio pregoce purtroppo di questi ragazzi verso il mondo del lavoro perché diventano essi stessi, nonostante la giovane età, sostegno per le famiglie. E adesso parliamo di Balestrate. Il gruppo Spazio Comune tuona contro la Tares. A non andare giù al gruppo consigliare di Balestrate è il sistema di calcolo che prevede rialzi da vera e propria stangata per i contribuenti. Sentiamo i particolari nel servizio. Spazio Comune tuona contro la Tares. A non andare giù al gruppo consigliare di Balestrate è il sistema di calcolo approvato dal Consiglio Comunale per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili. Grazie ad un sistema complesso di calcolo, dichiara Vitor Rizzo, con la Tares vengono penalizzate le famiglie e chi abita in abitazioni medio-piccole. Solo per fare qualche esempio, continua Spazio Comune, una coppia con un figlio che vive in un appartamento di 80 metri quadri pagherà il 60% in più rispetto allo scorso anno. Una famiglia composta da 6 persone che vive in un appartamento invece di 100 metri quadri dovrà pagare bene il 117% in più. Rincari molto pesanti anche per diverse attività commerciali, il 121% in più per l'ortofrutta, pescherie, fiorai e pizzeri al taglio. Una batossa per gli alberghi con un rincaro dell'86%, del 60% per tabaccai ed edicole. La Tares aumenta del 47% invece per i bar e del 37% per i ristoranti. Beneficeranno della Tares invece gli stabilimenti balneari, meno 11%, banche, meno 14%, e capannoni industriali, meno 23%. Inoltre la menta Spazio Comune con la Tares scompaiono tutte quelle agevolazioni previste dal regolamento Tarsu in favore dei giovani imprenditori e delle giovani coppie istituite durante la passata consigliatura e che consentivano ai giovani risparmi fino al 30%. Il gruppo consigliare Spazio Comune, composto dai consiglieri Guido di Amicis, Luca Muscolino, Marina Saputo, Giuseppe Ghimenti e Giuseppe Lombardo, aveva proposto un aumento uguale per tutte le categorie del 30% rispetto allo scorso anno, ma la proposta è stata bocciata dalla maggioranza. La prescrizione cancella i falsi in bilancio attribuiti ai vertici dell'azienda per l'igiene ambientale di Palermo. L'AMIA oggi fallita e trasformata in RAP Risorse Ambiente Palermo. Sentiamo il servizio. Tutto ribaltato e si chiude fra prescrizioni e assoluzioni. Si conclude così la vicenda sulla sentenza di condanna degli ex vertici dell'AMIA, azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti a Palermo. Le accuse erano quelle di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, ma in appello è stato tutto ribaltato. È stata dichiarata la prescrizione per Orazio Colimberti, ex direttore generale dell'azienda, l'ex senatore ODC e presidente dell'azienda Vincenzo Galioto, Angelo Canzoneri, Francesco Arcudi e Paola Barbasso Gattuso. Assolti invece perché il fatto non costituisce il reato i membri del collegio sindacale Gaetano Mendola, Antonino Giuffré e Vincenzo Gargano, mentre è stata annullata per divetto di notifica la condanna dell'altro componente dell'organo, Giuseppe Costanza. Per ciò che riguarda l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata, la mancata presentazione della querela da parte dell'ex primo cittadino rappresentante del comune socio unico dell'AMIA, soggetto danneggiato dai reati, ha fatto sì che la procura abbia potuto contestare solo l'ipotesi di falso in bilancio prevista come contravvenzione e non quella che il codice disciplina come delitto. Da qui pene molto più lievi e tempi di prescrizioni più brevi. Parliamo adesso di Alcamo perché il Consiglio Comunale giovedì sera ha votato favorevolmente a maggioranza il bilancio di previsione. C'è stato uno sforamento, pensate, del patto di stabilità intorno ai 4 milioni di euro. Il Consiglio Comunale di Alcamo ha votato favorevolmente a maggioranza il bilancio di previsione con uno sforamento del patto di stabilità che si attesta attorno ai 4 milioni di euro. Tutto certificato dal settore dei servizi economico-finanziari, l'altro ieri sera in seno al civico consesso che ha avviato la discussione per il valo del bilancio di previsione. Tra entrate e uscite tutto si è equilibrato attorno ai 54 milioni di euro con un avanzo di amministrazione che invece si attesta sui 2 milioni e 160 mila euro. È stato botta e risposta tra il Comune e l'opposizione che ha contestato il notevole ritardo per l'invio della documentazione del bilancio di previsione ai consiglieri. Per i consiglieri è stata l'occasione di ascoltare tutti i dirigenti dei settori e in primis l'amministrazione comunale che ha relazionato sullo stato di salute delle finanze del Comune. L'assessore all'economia Gianluca Binanti ha imputato lo sforamento ai continui tagli ai trasferimenti che hanno messo in ginocchio moltissimi enti siciliani. Nel contempo sono stati evidenziati tutta una serie di risparmi. L'assessore però non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti dei dirigenti del Comune, definiti litigiosi e poco collaborativi rispetto alle indicazioni del Governo cittadino. Dall'opposizione sono state mosse una serie di critiche dalle scarse agevolazioni previste sulla Tares che incidono per appena il 2% dell'intera manovra alla recessione del controtto con l'Aipa per la riscossione della tassa sui rifiuti che potrebbe portare a futuri contenziosi per arrivare al continuo ricorso all'esternalizzazione di servizi. Alzato la voce anche la maggioranza con il movimento aria democratica che ha esternato tutti i suoi mal di pancia. Restiamo a parlare di Alcamo perché ci sarebbe un buco ad oltre mezzo milione di euro. L'hanno creato nel bilancio del Comune gli evasori della vecchia ICI. Attanto ammonta la cifra che risulta essere stata elusa da 540 contribuenti tra il 2006 e il 2011. Sentiamo. Un buco da oltre mezzo milione di euro. Lo hanno creato nel bilancio del Comune i cosiddetti furbetti ovvero gli evasori. Attanto ammonta la cifra che risulta essere stata esclusa da 540 contribuenti dal 2006 al 2011 inerente soltanto alla vecchia ICI. L'imposta comunale sugli immobili oggi sostituita dal Limo. La scoperta degli evasori è stata fatta dal servizio entrate tributario ufficio ICI nel corso dell'anno 2012. In pratica un'apposita squadra ha provveduto alle attività di controllo e accertamento relative all'ICI per le annualità d'imposta dal 2006 al 2011 con l'emissione per l'appunto di 540 avvisi. Dopo la messa in mora in 150 non hanno provveduto a pagare quanto accertato. Il Comune adesso ha deciso di fare scattare il piano B. In pratica se con le buone non si riesce nell'obiettivo si deve procedere con le cattive e così sfruttando una ben precisa norma nazionale sono scattate le modalità di riscossione coattive mediante il ruolo con la maggiorazione degli interessi a partire dalla scadenza dell'avviso alla data di riscossione. Gli accertamenti di evasione sono via via cresciuti di anno in anno. Si va dagli appena 71 euro del 2007 ai 394.000 del 2011, ultimo anno di accertamento. Lo stesso settore servizi finanziari e servizi entrate tributarie ha trasmesso tutta la documentazione ad Equitalia Servizi, la società di riscossione esterna a cui si è appoggiato il Comune, a cui sono stati notificati i ruoli resi esecutivi dai funzionari comunali. Non tutti e 516.000 euro entreranno nelle casse del Comune. Infatti l'attività degli agenti della riscossione sarà remunerata con un agio pari al 9% delle somme scritte al ruolo e dei relativi interessi di mora, che è a carico del debitore nella misura del 4,65% delle somme scritte al ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno. In parole povere la mora raddoppierà per gli evasori nel caso in cui non pagheranno quanto dovuto due mesi dall'invio dell'avvio. A conti fatti per questa rimozione forzata il Comune dovrà dare ad Equitalia 22.000 euro circa. Il resto, quindi 490.000 euro, dovrebbe incassarlo. L'ente municipale fa sul serio anche perché con le finanze non si può più scherzare. Il bilancio votato giovedì scorso con un patto di stabilità sforato per circa 4 milioni di euro viaggia sul lollo del crack, così come confermato dallo stesso sindaco. E se come succede? Ci tagliano il 28 di ottobre altri 2 milioni e passa di euro, ma come si fanno a quadrare i conti? Questa è una cosa estremamente difficile. È lo stesso stato. Ad oggi noi non sappiamo quanto la Regione ci darà. Ipotizziamo che ci darà lo stesso all'anno scorso, ma se anche la Regione taglia. Allora così lo Stato deve decidere se il cattivo è il sindaco, che poi è costretto per mantenere uno status adeguato a aumentare le tasse. Adesso ci occupiamo di una manifestazione che è in programmazione martedì prossimo 3 dicembre a Palermo in ricordo del beato padre Pino Puglisi. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. Ai bambini concepiti nei viaggi della speranza dalla Sicilia verso il mondo sarà dedicata a loro la non edizione del premio Beato padre Pino Puglisi. Non una passerella, ma anche quest'anno il premio Beato padre Pino Puglisi vuole essere un riconoscimento simbolico per chi facendo il proprio dovere fa anche del bene, promuovendo la dignità degli uomini e l'impegno sociale. Così nomi comuni tra i premiati che martedì prossimo 3 dicembre alle 21 saliranno sul palco del Politiama Garibaldi di Palermo come il sindaco di Lampedusa, il vice comandante della polizia, i rappresentanti della fondazione Rita Levi Montalcini e tanti altri a presentare la serata ai giornalisti Roberto Guerri e Tiziana Martorana. L'evento diventato ormai un appuntamento internazionale e uno dei principali momenti esclusivamente siciliani dedicato alla riflessione, alle testimonianze sulla lotta alla mafia. Battaglia che ha contraddistinto padre Pino Puglisi, sacerdote palermitano ucciso dalla mafia e modello per i giovani e per tutto il mondo, è beatificato proprio quest'anno. Il premio organizzato dall'associazione Gius Vita e Ollus in collaborazione con la Cisle di Palermo e Brass Group gode anche del patrocinio del Presidente della Repubblica. Si è dimesso a Monreale l'assessore alla legalità Marco Intravaia. Questa mattina ha presentato la lettera di divisione a Palazzo di Città. Si conclude pertanto dopo tre anni la sua esperienza amministrativa nella giunta di Matteo. Coerenza e legalità afferma Intravaia che è anche titolare della delega alla Polizia Municipale sono valori che mi hanno da sempre contraddistinto, non posso tradirli. Sono rimasto sino ad oggi perché è convinto di poter fare qualcosa di diverso e di positivo per la nostra città, ma non mi è stato consentito. Probabile che Intravaia nei prossimi giorni spiegherà in maniera più completa le motivazioni che lo hanno portato a maturare questa decisione. Vi ricordo che Marco Intravaia è figlio del brigadiere ucciso a Nasseria. Non ci sono aggiornamenti per il momento, il telegiornale finisce qui. Grazie per la cortese attenzione e buon fine settimana a tutti. Grazie per la visione!